Ci sono tre buone notizie che arrivano da Castelmaggiore. Il Prato centra la seconda vittoria consecutiva, non subisce reti al passivo e più che altro continua a segnare con i propri attaccanti Tavano e Wattara che si ripetono dopo i sigilli messi a segno con il corticella. I progressi sul campo del progresso si sono visti più sotto il profilo del risultato finale che del gioco espresso, ma in questo momento non è il caso di mettersi a fare gli esteti. Il malato eccellente Biancoazzurlo sembra in fase di guarigione. L'antidoto portato dal nuovo tecnico Aldo Filicano sembra cominciare a dare i propri frutti. È stata una partita, come mi immaginavo, sofferta. Siamo stati bravi a capire che in alcuni campi bisogna soffrire per poi tentare di saltare quelle che sono le nostre qualità e oggi da questo punto di vista è stata una partita buona perché abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e abbiamo risolto qualche situazione buona che abbiamo creato quando si doveva fare. A Castelmaggiore il progresso inizia bene. Marchetti prima e Bagatti successivamente tengono in allerta il portiere Laniero Nannelli, sempre vigile e attento. Al 19esmo il Prato passa in vantaggio. Sanatti innesca una mischia in area di rigore del progresso risolta dal guizzo vincente di Guattara e 1-0 per il Prato. Il progresso cerca di reagire ma cozza su Nannelli che smanaccia sulla conclusione di Marchetti e devia in angolo la battuta di Matta. Nel secondo tempo il Prato continua a gestire il vantaggio conseguito. Ferrarese fa venire i brividi a Nannelli che in qualche modo respinge. Il Prato chiude i conti al settantesmo, Guattara spizza di testa e Tavano completa la festa laniera segnando la seconda rete bianco-azzurra. E' 2-0 per il Prato che torna a vincere e rosicchia tre punti alla capolista aglianese battuta in casa la seravezza. Per il Prato la fiammella della speranza rimane accesa.